E' già tempo di vigilia per la Palacanestro Trapani che domani sarà in campo al Palaconad per la sfida contro Mantova. Una gara che si giocherà nuovamente alle 12, un orario che ha caratterizzato il campionato Granata. Si tratta del primo di tre turni infrasettimanali che separano il termine della stagione regolare della Serie A2. Una gara che giunge dopo i successi della 2B contro il Trapani conquistati contro Biela e Capodorlando. La Palacanestro Trapani è riduce da una striscia di 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Quello di domani quindi sarà nuovamente un banco di prova per gli uomini di coach Daniele Parente. Mantova è una squadra che ha cambiato tanto a partire dal tecnico che vede adesso Gennaro Di Carlo guidare la formazione bianco-rossa. Un allenatore che nella sua storia ha guidato l'Orlandina alla Champions League portando la prima squadra siciliana in Europa. Oltre al tecnico Mantova ha cambiato anche il proprio atleta straniero di riferimento. Al posto di Christian James la società lombarda ha ingaggiato la guardia estone Rain Vedeman che ha già debuttato nella gara contro Torino. Trapani per la sfida di domani conta di recuperare Ugo Erkma. Il giocatore Granata ha riportato una distorsione alla caviglia e per tale motivo non ha preso parte alla trasferta del derby contro Capodorlando. Trapani vuole mantenere alta la guardia a partire proprio da domani. Bisogna tenere duro e stare concentrati su stessi perché purtroppo ora per noi inizia un tour de force come è stato all'inizio. Qualcuno già l'ha fatto, qualcuno lo deve ancora fare, quindi ogni partita è veramente un punto interrogativo. Dobbiamo essere bravi a reclutare energie a partire da mercoledì, che è una partita delicatissima, con una squadra che ha cambiato l'americana, da quando ha cambiato l'allenatore sta viaggiando a ritmi alti, piena di talento, lunghissima, quindi ci sarà bisogno di uno sforzo ulteriore. Una cosa che possiamo fare è pensare a una partita alla volta, recuperare le energie, ma non alzare le mani al manubrio perché è lunghissimo ancora e può succedere di tutto. Grazie a tutti.